ciao a tutti benvenuti alla pausa caffè di idea city oggi volevo farvi vedere come si uniscono due video allora cosa vuol dire ieri ho registrato due video eccoli qua e stavo registrando una puntata dovuto fare una pausa perché non so se vi ricordate stavo installando una cosa per non farvi perdere tempo stoppato e poi ho riregistrato quindi ho prodotto due mp4 differenti il primo che durava un tot e il secondo adesso li voglio unire con cosa li posso unire c'è un programma senza andare a impazzire con dei programmi complicatissimi a pagamento che non è proprio semplice semplice però in realtà per fare alcune cose se sapete come si fanno è semplice si chiama avidemux se voi cercate avidemux su internet su google avidemux ecco il primo risultato è questo mi manda questa pagina dove c'è la schermata dei download aprite la schermata dei download a seconda del vostro sistema operativo vi andate a cercare la versione più recente e ve la scaricate ve la installate perfetto adesso io lo lo apro vide mux eccolo qua e cosa faccio per unire i due video prendo il primo video quindi 001 mp4 lo trascino qui dentro e lui me lo sta aprendo poi clicco su file e gli dico aggiungi e vado nella cartella dove ho messo il video che non è questa bensì questa ok e vado a prendermi lo 002 e clicco su apri perfetto lui adesso mi dice che mi ha dato un avviso ma che è durato un lampo e diceva che sono già uniti adesso io scelgo solo dato che era è in mp4 gli dico di convertirmelo di farmelo in mp4 perché se il lascio a b mi dà errore allora da qui contenitore output gli dico mp4 e a questo punto gli dico file salva eccolo qua e lui basta me lo salva adesso faccio vedere lo salviamo nella stessa cartella ok il cambio il nome gli dico uniti per dire uniti mp4 fatto ok andiamo a vedere come rimane il punto di unione allora andiamo a vedere che questo video qui dura così 3 minuti e 19 quindi al minuto 3 19 ci sarà questo fantomatico punto di unione ok l'avevo salvato qui andiamo subito al punto 3 19 vado direttamente eccolo qua perfetto non si nota assolutamente niente ok ho unito i due video e in questo modo semplice e veloce e allora spero di averti aiutato con questo trucco sembrato programmino freeware ci sentiamo domani seguimi sempre se siete piaciuto grazie per il mi piace e grazie per la tua condivisione alla prossima ciao ciao